Salve, io sono Teresa Scordino ed in questo breve video voglio mostrarvi i vantaggi di cucinare verdure ed ortaggi con il coperchio Magic Cooker. Questo è il coperchio Magic Cooker che basa il suo funzionamento sulla presenza di questi fori, che non sono dei semplici fori, ma sono stati studiati, brevettati e sfruttano un importante principio della fisica. La cottura avviene sfruttando il ricircolo del vapore che si crea all'interno del tegame e il calore riflesso dal coperchio sul cibo. Grazie a questo sistema, una volta raggiunta all'interno del tegame la temperatura di circa 100 gradi, continuiamo a cuocere i nostri cibi sempre a bassa temperatura. Adesso vi mostro in concreto i vantaggi che abbiamo. Ad esempio, per cucinare questi fagiolini io avrei dovuto utilizzare una pentola almeno di queste dimensioni e non solo avrei dovuto riempirla per almeno tre quarti di acqua, il che la renderebbe anche molto pesante e pericolosa nel momento in cui vado a scolare l'acqua calda. Invece, grazie al coperchio Magic Cooker io vado a cucinare questi fagiolini, vedete, in un tegame molto più piccolo. Quindi sono già puliti e li metto in pentola. Per circa mezzo chilo di fagiolini vado ad aggiungere l'acqua. Quindi copro col coperchio e metto subito a fiamma alta finché non vedo uscire il vapore dal coperchio. Accendo la fiamma al massimo, è importante che la fiamma messa al massimo non fuoriesca dal bordo della pentola. Cuocere con poca acqua è importante anche perché sali minerali e macronutrienti degli alimenti non vengono dispersi nell'acqua di cottura. Spero che nel video si veda chiaramente la fuoriuscita del vapore. Questo è perché io sto utilizzando un modello Classic. Se invece stessimo utilizzando un modello Smart Dynamic vedremmo la calotta alzarsi. Questo è il momento in cui all'interno del tegame abbiamo raggiunto all'incirca 100 gradi. Quindi sposto il coperchio, metto un po' di sale. Posso salare pochissimo perché il cibo mantiene i macronutrienti, quindi sarà già saporito. A questo punto mescolo in modo da avere una cottura proprio uniforme, quindi copro nuovamente e abbasso la fiamma perché così io come vi dicevo continuerò a cucinare a bassa temperatura. Cucinando a bassa temperatura non solo non creiamo tossine nel cibo, ma in più manteniamo sali minerali e macronutrienti. Ed è proprio per questo che avremo un risultato davvero eccezionale, colori brillanti e cibi molto più saporiti. In circa 15 minuti i fagiolini sono cotti e vi mostro subito. Guardate come la forchetta entra facilmente sia nella patata che nei fagiolini. Però è importante lasciare ancora in pentola per qualche altro minuto perché come vedete al di sotto del coperchio si è creato del vapore. Questo vapore è ricco di macronutrienti, quindi spengo la fiamma e lascio riposare le verdure per qualche minutino. Come vedi i coperchi quatondi si possono utilizzare non solo sulle pentole quadrate ma anche sulle pentole rotonde, sia quelle dell'azienda Magic Cooker come questa, sia sulle pentole che hai a casa. Quella che io ho utilizzato per cucinare è una pentola della linea perfetta, ci sono tante misure, questa che ho utilizzato, quest'altra che vi avevo mostrato poco fa, ed ha il fondo adatto all'induzione di ben 5 mm e il bordo di 4 mm. Ha la caratteristica anche di avere il bordo smerigliato così non si potrà aggaffiare aprendo e chiudendo il coperchio. I manici come vedi sono in soft touch e così non ci bruciamo quando la utilizziamo. E poi è costruita in alluminio certificato purissimo ed è rivestita in polvere minerale naturale sabbiata due volte e non contiene PFOA, nickel, piombo. Il coperchio li puoi utilizzare se vuoi anche sulle tue pentole. Impiattiamo. Ovviamente i tempi di cottura sono molto indicativi perché dipendono da vari fattori, sia dalla potenza della fiamma che stiamo utilizzando, sia dalla pentola che abbiamo utilizzato e anche dalla quantità che stiamo cucinando. Con il coperchio Magic Cooker, oltre ai vantaggi di cui ti ho già parlato, hai anche altri vantaggi perché velocizzi le cotture e quindi riduci i consumi di corrente o di gas ed in più si riduce notevolmente la fuoriuscita sia di schizzi che di cattivi odori. E tutto questo lo puoi avere con un semplice gesto sostituendo il coperchio che usi quotidianamente con un coperchio della linea Magic Cooker. Guarda, quasi non si nota la differenza. Questi sono i fagiolini che abbiamo già cotto. Guarda che colore brillante. Questi sono quelli ancora crudi, sembrano dello stesso colore. Puoi cuocere col coperchio i cibi surgelati sia da soli utilizzando lo stesso metodo che insieme ai cibi freschi. Avrai lo stesso un ottimo risultato. Con lo stesso sistema di cottura puoi cuocere anche i cibi surgelati sia da soli che insieme ai cibi freschi. Otterrai lo stesso un ottimo risultato.